Vito Totaro, responsabile dell'Accademia Calcio alla Quercia, veniamo da Putignano in provincia di Bari, siamo un paese di circa 28 mila abitanti nel sud-est baraese, nel comprensorio dei trulli e delle grotte. La nostra cittadina è famosa per il Carnevale di Putignano, una manifestazione più antica d'Italia. Il torneo ci auguriamo che possa avere uno svolgimento per quello che è il vero spirito per cui siamo qua, quindi un divertimento sano, puro, mi sembra che i cambi siano di ottima qualità, non ho dubbi che trascorreremo due giorni all'insegna del divertimento.